Parte l'angolo per il Milan, chiuso molto bene da Correa, prova a ripartire a Lazio, 3 contro 3, facile e immobile, 4 contro 3, facile e immobile, immobile per Correa, fronte a portiere, Correa, go! 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 E' il go di Correa! E la Lazio passa strameritatamente in vantaggio e il contropiede della Lazio con il pallone servito da Ciro Immobile per Correa che entra in aria e buca tra le gambe il portiere del Milan e la Lazio passa strameritatamente in vantaggio al quattornicesimo di questo secondo tempo a San Siro, 1-0 Lazio, 1-1 Correa! E ricorda il colo a proprio Correa dopo il, quando si è presentato l'ultimo avvento del Pira, un'azione di contropiede iniziata proprio da Correa che sul calcio d'angolo intercetta il pallone, scatta con immobile, immobile si muola, 40 metri per il piede, divina il pallone, 1-1 Correa, lei la stavolta non può fare il tirato, Correa che è un blocco immobbino a facciare il pallone, a mettere il pallone, finalmente alle spalle del portiere spagnolo per portare una azione in vantaggio in maniera strameritata dai ragazzi!